Allora, wiki amici! Veronica tra le nuvole e Miss Smilization ci hanno chiesto perché si dice dare il colpo di grazia. Il colpo di grazia è l'attacco finale nei confronti di una persona incapace di difendersi. In passato era l'atto di pietà inferto a un compattente ferito per evitargli una lenta agonia. Con l'avvento di antidolorifici e anestetici, questa espressione perse il valore originale, rimanendo nel linguaggio comune con il significato di colpo finale. WIKI NAUTI Bene ragazzi, spero che abbiate compreso bene il significato di colpo di grazia! E quindi condividete il video, iscrivetevi al canale e se volete un perché si dice personalizzato scrivetecelo in un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Aloha!